Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata alla mancanza d'acqua che si registra in alcune zone di igela. Anche oggi come ieri niente lezioni al plesso della scuola primaria e dell'infanzia ex magistrale di via Europa. Vediamo. Se continuerà a persistere la mancanza di acqua, il plesso di scuola primaria e scuola dell'infanzia ex magistrale di via Europa resterà chiuso. Il cartello affisso ieri con la firma del dirigente scolastico Cetta Mongelli è stata quasi una premonizione. Anche oggi infatti niente acqua e niente lezioni. Era già accaduto qualche settimana dietro, chiesto l'intervento all'amministrazione comunale al fine di adottare ogni provvedimento idoneo per fronteggiare la vicenda del disagio idrico. Le mamme degli alunni ieri hanno giustamente protestato. Non è ammissibile, hanno detto che in una scuola non ci sia acqua. Arriviamo a scuola e siamo costretti a riportarci per chi può i bambini a casa perché manca l'acqua. Questo è un disagio, un disturbizio che si crea alle famiglie enorme. Noi pensiamo di essere in una città civile dove paghiamo le tasse e invece ci troviamo costretti a questi enormi disagi. Quindi noi non siamo disposti a tollerare. Vogliamo che la scuola, il dirigente che rappresenta le famiglie e i bambini si assuma le responsabilità. Si muova, non è un attacco al dirigente. Vogliamo che ognuno per le proprie competenze, per le proprie professionalità agisca nei confronti dell'istituto, nei confronti dell'utenza che rappresenta il comune che attacca chiunque. Noi genitori non possiamo arrivare a scuola senza essere avvisati tra l'altro e riportarci i bambini a casa. Se decidiamo di lasciare questi bambini a scuola dobbiamo andare al lavoro o chi ha impegni personale lasciandoli con la preoccupazione che possono prendere un'invezione perché le maestre ci dicono anche che i bagni non sono nelle condizioni igienico-sanitarie, quindi se il bambino si prende un'invezione noi vi abbiamo avvisato. Il punto è proprio questo. Io sono una donna lavoratrice che tra l'altro non ha possibilità perché non ha nessuno a cui lasciare il proprio figlio e si trova nella condizione di mettere a rischio il posto di lavoro. Perché cosa? Per un disservizio che in una società civile non dovrebbe assolutamente esistere. Il segretario di istituto Nunzio Pseila. Noi nel momento che abbiamo contezza che manca l'acqua avvisiamo sia i tecnici del comune che sia i tecnici della provincia nonché il sindaco così come c'è l'acqua. Nessuna ad oggi ha portato quindi autobotte d'acqua. Il problema è come possiamo risolverlo solamente con la chiusura della scuola nel momento che accertiamo la carenza igienico-sanitaria. L'acqua manca anche nel quartiere Catubazza. I residenti sono infuriati. Un disagio che sta creando problemi alle normali attività quotidiane. Gli annunci trionfalisti dell'ASPO sulla futura attivazione dell'Utin e della Breast Unit all'ospedale di Gela sono soltanto un espediente per mascherare il vero fulcro della questione, la tempistica. Lo ha detto il sindaco di Gela, Domenico Messinese, commentando le risultanze dell'ultimo consiglio comunale monotematico sulla sanità. Nessuno mette in dubbio i diritti acquisiti dall'utenza del Vittorio Emanuele, ha continuato il primo cittadino, ma il problema riguarda le gravi responsabilità che hanno fatto slittare le coperture finanziarie. Come è chiarito da più conferenze dei sindaci con l'assessore alla salute Baldo Gucciardi, l'ASPO di Caltanissetta ha commesso imperdonabili errori nella valutazione economica, determinando un tetto di spesa inferiore a quella del 2014. Solo questo sarebbe sufficiente a provocare con un atto di dignità un passo indietro da parte del manager Carmelo Iacono. Messinese, così, concorda con le richieste di dimissione avanzate da alcuni consiglieri comunali. Oltre alle responsabilità, bisognerà anche cercare di aggiustare il tiro. Se è vero che dal Ministero della Salute verranno ridimensionati alcuni servizi dell'ASP Nissena, ha continuato il sindaco, chiederò ufficialmente all'assessore regionale Baldo Gucciardi di dirottare su Gela i fondi che in quel caso avanzeranno. Con il componente della giunta regionale, attendo inoltre ancora un documento che giustifichi un'altra vicenda. L'ASP, ha raccontato il sindaco di Gela, deve fare chiarezza su molte culle termiche trovate inutilizzate dentro un magazzino dell'ospedale Vittorio Emanuele che a voce di popolo attendono da anni di essere adoperate per la creazione dell'utine e invece per l'azienda sanitaria servono da riserva. Adesso parliamo del raid furtivo commesso la scorsa notte a Gela, tra fugati slot machine e gettoniere da un punto di ristoro del porto rifugio. Vediamo. Era già accaduto lo scorso 13 agosto in pieno centro storico. In quell'occasione fu preso di mira il bar Naif in via Giacomo Navarra-Bresmes. I gnoti utilizzarono una mazza per sfondare una delle vetrate principali del negozio rubando i contenitori portamonete di due slot machine. Il bottino furtò 1.500 euro. Simile copione si è registrato la scorsa notte intorno alle 4. Sconosciuti malviventi hanno puntato la loro attenzione al chiosco di Ruben al porto rifugio. Utilizzando un passepartout si sono introdotti nella locale ed hanno portato via con l'ausilio di un mezzo, due slot machine ed una macchina cambia monete. Sono stati gli uomini della vigilanza notturna subito dopo a rinvenire sulla strada in via Federico II di Svevia alcuni pezzi di quanto trafugato in precedenza. Sul posto è arrivata la polizia e dopo minuziose ricerche all'interno dell'area dell'ex Lido Eden, oramai abbandonato, sono state rinvenute le due slot machine. Nessuna traccia invece dalla gettoniera. Al cui interno c'erano quasi 500 euro. La polizia ha requisito le immagini del sistema di videosorveglianza collocato all'esterno del chiosco di Ruben al fine di risalire agli autori. Intanto, in merito ai controlli eseguiti ieri dai carabinieri del reparto territoriale e dagli agenti della polizia municipale finalizzati al contrasto delle violazioni al codice della strada, sono stati deferiti in stato di libertà alla locale procura due cinquantenni gelesi per guida senza patente. In particolare, i militari dell'arma, impegnati in un controllo in via Venezia-Angolo via Tevere, hanno sorpreso la guida rispettivamente di un Peugeot Vivacity e di un Aprilia Scarabeo, i due uomini senza che questi avessero il titolo idoneo per condurre il proprio mezzo. Il primo, infatti, non aveva mai conseguito la patente e dal secondo invece gli era stata revocata. Sono state inoltre controllate 68 persone, 43 tra autoveicoli e motoveicoli ed elevate 15 contravvenzioni al codice della strada. In particolare, sono stati sequestrati sei, tra auto e motocicli, sia per mancata copertura assicurativa, tre auto, sia per il mancato uso del casco protettivo, tre ciclomotori. A seguito dei controlli che hanno riguardato la zona di via Venezia e di via Tevere ed il corso principale, è emerso comunque che un sempre maggior numero di utenti della strada rispetta quelle che sono le norme prescritte dal vigente codice, dimostrando quindi che il controllo del territorio, anche in questo caso, ha dimostrato la sua efficacia nel contrasto alle mancanze commesse dagli automobilisti e dai motociclisti. Auto in fiamme la scorsa notte in via Francesco Crispi a Gela. Si tratta di una Nissan Micra di un operaio di 51 anni. Si terrà domani alle 19 nello stabilimento Campi Siciliani ex Zappalà sulla statale 115 Gela Licata, l'incontro promosso dal Partito Democratico nell'ambito del progetto Sicilia 2014-2020, programma di sviluppo rurale. Sarà presente l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, previsti gli interventi del deputato regionale Giuseppe Arancio, del segretario provinciale del Partito Democratico Giuseppe Gallè, del presidente del Consiglio Comunale di Gela Alessandra Ascia e del capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta. L'introduzione dei lavori è affidata a Tony Ganga Rossa, presidente dei campi siciliani. Saranno presenti i sindaci del comprensorio e le associazioni di categoria. Un mare di opportunità è il tema di tre seminari promossi sull'unicità del Golfo di Gela che si terranno oggi, domani e sabato rispettivamente a Lampedusa, Licata e Gela. Durante altri giorni saranno illustrati gli obiettivi, le azioni e i risultati sulle nuove opportunità di sviluppo che i gruppi di azione costiera hanno messo in campo al fine di promuovere l'accrescimento locale e sostenibile per dare impulso alle economie costiere e alle zone di pesca fondato sullo coinvolgimento di attori pubblici e privati intestatari di interessi comuni che operano nel contesto territoriale dei comuni di Gela, Licata, Butera, Lampedusa, Linosa. I cinque centri hanno dato forma ad una società consortile si chiama GAC Unicità del Golfo di Gela che ha come obiettivo quello di attuare il piano di sviluppo locale. Il GAC è caratterizzato dalla presenza di connotati unici di natura e bellezza architettonica, storica e culturale al cui interno le tradizioni marinare sono radicate. Il primo appuntamento si trarà oggi alle 16.30 nella sede dell'area marina protetta Isole Pelage a Lampedusa prevista la partecipazione di numerosi esperti del settore che riceveranno il saluto del sindaco Giuseppina Maria Nicolini identico copione il giorno dopo nella sala convegni del Carmine di Corsodoma a Licata. Verranno forniti entro dicembre i box nella darsena di Marianello 40 box prefabbricati al servizio dei pescatori e in più, come avevamo assunto l'impegno in campagna elettorale verranno fornite colonnine di acqua e luce da installare all'interno dell'area portuale e un sistema di videosorveglianza che potrà permettere naturalmente di mettere in sicurezza l'area portuale. Il gruppo di azione costiera, unicità del Golfo di Gela opera nell'ambito FEP ed atto a progetti di sviluppo e gestione di finanziamenti rivolti agli operatori della pesca. L'obiettivo principale del GAC è di attuare il piano di sviluppo locale la cui finalità è di integrare il flusso turistico con le attività connesse alla pesca attraverso interventi finalizzati a moltiplicare le opportunità di integrazione e diversificazione per le aziende del settore. La tre giorni si concluderà sabato 5 dicembre alle 16.30 nella Pinacoteca Comunale di Viale Mediterraneo a Gela. A Gela è prevista la possibilità di installare l'installazione di box per consentire ai pescatori di depositare le reti finalmente vicino al porto cosa che fino adesso non era possibile oltre ai box anche dei servizi igienici dei box che hanno all'interno i servizi igienici in modo tale da poter dare una vita più decorosa alla vita del porto. Torino Collura, coordinatore tecnico del GAC. La nuova programmazione ridà una nuova linfa a quello che è il mondo della pesca e anche delle attività legate alla pesca quindi la pesca come aiuto diretto ai pescatori ma la pesca come aiuto diretto ai territori per promuovere la cultura della pesca. Il GAC ha una componente pubblica pari al 40% formata dai comuni che hanno aderito il 37% è costituita da una componente privata mentre il restante 23% da un insieme di addetti ai lavori nella filiera ittica dell'economia locale. Venerdì 11 dicembre prossimo alle 18 il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana sarà in visita ufficiale alla Casa del Volontariato di Gele e terrà una relazione dalla titolo La Valenza Sociale e Politica della Misericordia quale volontariato per il bene comune l'incontro è aperto a tutti i volontari impegnati in gruppi, movimenti, associazioni e cittadini che vogliono aprirsi all'esperienza del volontariato. In occasione delle festività del Natale l'unità alzi sotto sezione di Gela sarà presente il 5, 6, 12 e 13 dicembre prossimi in Piazza Umberto I in via Palazzi, angolo via Albania in via Le Corte Maggiore nei pressi dei muretti di Macchitelle e davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata il ricavato garantirà la sotto sezione di sostenere le varie iniziative e di far vivere dei momenti di condivisione fraterna e diversamente abili. Dance Ability alla scuola Paola Miloni Giudici di Gela rivolta a tutti con l'obiettivo principale di sviluppare la creatività attraverso il movimento. Si svolgerà nella palestra dell'Istituto Scolastico di Vieni Scemi diretto da Giovanna Parazzolo l'iniziativa è dell'associazione Il Tempio di Apollo preseduta da Valeria Caci e sarà curata da Emanuela Ventura, ballerina. La Dance Ability appunto è un metodo di danza che viene applicato per persone abili e persone disabili. Lo scopo della Dance Ability è quindi quella di unire insieme le persone attraverso l'arte della danza. Non è richiesta avere alle spalle un'esperienza di danza ma bensì semplicemente la voglia e la curiosità di stare insieme. Il corso appunto quindi non ha esclusione di nessun genere di persone e di età è aperto ai bambini, è aperto ai grandi e alle persone semplicemente appassionate di movimento. Quindi è un invito a scoprire insieme a me e insieme a tutte le persone che saranno presente la bellezza dell'arte della danza. La Dance Ability è una tecnica che permette a persone abili e disabili di incontrarsi per danzare insieme attraverso un percorso di ricerca che sfrutta le abilità fisiche ed espressive individuali. La danza si sviluppa attraverso la tecnica dell'improvisazione. Penso che sia una specialità che in Italia o almeno a Gela non ha avuto e è un'assoluta novità. Felicissima io ho messo a disposizione una delle due palestre della scuola e spero che si iscriveranno molte, molte più persone. Al limite, se una palestra non basta, le useremo tutte e due. Proseguono a Gela gli appuntamenti inseriti nel programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Ogni giorno fino al 7 dicembre nella parrocchia San Francesco d'Assisi sono previste la preghiera del rosario e il canto dello stellario. La celebrazione eucaristica e la catechesi animata dai giovani e dai gruppi cittadini. Oggi alle 17, adorazione eucaristica animata dai ministri straordinari. Trentasettesima giornata del donatore si terrà domenica 6 dicembre prossimo nella sala del Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela promossa dall'ADAS appuntamento alle 16.30 prevista la presenza di Aldo Zino Caligaris Presidente Nazionale Fidas e dei cabarettisti Giulio Amico e Cristian Abbate conosciuti meglio come Fusibili Show. Durante la mattinata alle 8 nel centro di raccolta fisso di Via degli Appennini al numero 5 si terrà una donazione di sangue alle 10.30 invece nella parrocchia Regina Pacis la celebrazione della Santa Messa. Ci fermiamo, c'è la pubblicità restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlando della giornata europea delle persone con disabilità. Vediamo. Giornata europea delle persone con disabilità oggi all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela attraverso un lavoro di rete con l'Associazione Orizzonte. Il progetto scuola promosso e coordinato nel territorio da Natale e Saluci ha come obiettivo quello di stimolare attraverso la sensibilizzazione degli studenti un costruttivo dialogo con le famiglie degli alunni con e senza disabilità aumentare i servizi finalizzati all'integrazione affermare il valore dello sport quale strumento relazionale riabilitativo e sociale ed infine realizzare eventi e manifestazioni culturali artistiche e sportive che mirino a valorizzare l'autonomia l'autodeterminazione e l'autostima della persona disabile per il miglioramento della qualità di vita. È un programma che noi inseriamo nell'ambito del piano dell'offerta formativa che si sviluppa durante tutto l'anno però oggi anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo Verga stanno aderendo a questa giornata insieme virtualmente a quei 60 ragazzi che sono accolti dal sottosegretario appunto Faraone per discutere a portare suggerimenti vagliare su un tavolo come adulti quelle che possono essere le strategie migliori per migliorare la qualità della loro vita. L'obiettivo è di rendere gli studenti consapevoli e responsabili che la diversità non è differenza e che nella diversità si conserva grazie in ricchezza interiore. Gli alunni coordinati dai professori Romano e Valetti apriranno la settimana europea del basket con evento programmato nell'ambito delle attività nazionali di Special Olympics Italia organizzato in collaborazione con l'Orizzonte. Interverranno all'evento il direttore regionale Special Olympics Natale Salucci ed il responsabile regionale dell'area medico-psicopedagogica Francesco Scimonelli. Tutta Europa si svolgono partite unificate tra soggetti diversamente abili e nonne e noi in questa giornata stiamo così festeggiando ricordando che la diversità è un valore aggiunto per cui attraverso gli atleti di Special Olympics e gli atleti dell'Orizzonte abbiamo costruito un percorso nella scuola verga in cui possono conoscere le vere abilità dei ragazzi diversamente abili eliminando i pregiudizi precongetti nei confronti di loro faremo delle partite unificate e quindi tutti assieme cerchiamo di scendere in campo e non guardare l'altro con diffidenza laboratori di gioco mensili rivolti ai bambini dai 5 agli 8 anni li promuove il Soroptimist International d'Italia Club di Gela il primo appuntamento sarà curato da Paola Rinciani e si terrà domenica 6 dicembre dalle 16 alle 18 presse il museo archeologico il titolo è in fondo al mar sono tre in tutto gli incontri mensili gli altri due si terranno domenica 13 e domenica 20 dicembre Natale in casa Cuppiello si tratta del prossimo appuntamento previsto il 12 dicembre alle 17.15 alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela sul palco Enrico Guarneri la regia di Antonello Capodici per informazioni il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 91 18 92 oppure 345 58 80 0580 prenderà il VL 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa Sergio Vespertino Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia l'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo biglietto costerà 15 euro il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18 e 30 alle 20 e 30 arriva il grande jazz a Gela appuntamento al Teatro Comunale Eschilo venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933 91 1892 oppure 345 58 80 580 Corri con papà natale sesta edizione si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9 e 30 in piazza Umberto I a Gela l'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Night Sport presieduta da Giuseppe Veletti informazioni e iscrizioni al numero 347 57 99 271 Siamo allo sport vittoria per 2 a 1 del Gela sul Mazzara nella semifinale di andata di Coppa Italia giocate ieri pomeriggio al Presti nonostante l'uomo è meno per quasi 70 minuti di gioco a causa dell'espulsione di Mallia e dopo avere subito la rete del vantaggio degli ospiti nel secondo tempo la squadra di Brucculeri è riuscita comunque a ribaltare la partita grazie ai due calci di rigore concessi dall'arbitro Leotta di Acireale trasformati da Salvatore Mincica con freddezza bene l'ultimo innesto Salvatore Caci mandato subito in campo è apparso gente grato nei meccanismi di gioco tra 15 giorni match di ritorno proseguono gli appuntamenti in occasione dell'81esima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica 6 dicembre prossima alle 19 al Palazzo Pignatelli concerto del duo Antonella Maria Calle al flauto e Paola Longi alla chitarra bene con questa notizia dedicata allo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale vi ringraziamo per avere scelte anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che tutti gli approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.dg10.it oppure sul nostro televideo grazie e arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti